Ciao a tutti, oggi voglio condividere con voi alcune informazioni riguardanti Obama. Obama ha fatto parte dello scenario politico perché è stato presidente degli Stati Uniti d'America, però fa ancora parte dello scenario politico. È un sostenitore di Biden e come vi dicevo anche nel video precedente, penso che molte delle scelte politiche che Biden andrà a fare saranno fortemente influenzate da Obama, fortemente. Quindi lui è ancora presente nella politica. Io vi ho già parlato di Obama, di tutto lo schifo che lui ha fatto e degli americani che ancora lo stanno lì ad osannare. Vi ho parlato dello schifo che lui ha fatto al Pakistan, ma anche ad altri paesi. Ma chi è Obama, ragazzi? Chi è Obama? Nessuno lo sa, è un mistero. Ma non sto scherzando, non sono ironica, dico davvero. Nessuno sa chi è realmente Obama, perché lui non ha mai fornito un documento reale riguardo alle sue origini. Lui non ha mai fornito un documento reale riguardo alla sua vera identità. E quindi nel corso degli anni molti si sono chiesti ma chi è Obama? Ci sono tantissime cose che non tornano. Perché lui, per esempio, ha detto più e più volte di aver frequentato la Columbia University, no? Ci sono state tantissime, sono state effettuate tantissime interviste anche ai ragazzi che frequentavano comunque il corso a quell'epoca, no? Ebbè, nessuno si ricorda di Obama, nessuno ha mai visto Obama. Ma com'è possibile? Lui ha più e più volte dichiarato tutto questo, l'ha giurato, l'ha spergiurato, eppure nessuno si ricorda di lui. Io devo dirvi la verità, ragazzi. Io ho un bel ricordo delle scuole elementari, delle scuole medie. Io del liceo ho rimosso tantissimo. Non mi ricordo dove siamo andati in gita. Io non mi ricordo la maggior parte delle cose del liceo, perché ho un bruttissimo ricordo di quei cinque anni. E in cui c'era questo... Ho proprio percepito, nel momento in cui sono andata a frequentare il liceo, la forzatura nello studiare, nell'eseguire un compito. Infatti io non studiavo e non facevo i compiti. Non studiavo perché percepivo che le cose che andavo a leggere erano false, fasulle. Infatti poi, dopo aver terminato gli studi, dopo aver terminato il liceo, sono andata a studiare varie cose per conto mio. Ed effettivamente ho capito che era così, che le cose che io andavo a studiare, per cui provavo così tanta riluttanza, erano delle falsità. Ho sempre avuto un rapporto conflittuale con la scuola, soprattutto negli anni del liceo. Infatti nel corso di questi cinque anni di liceo ricordo di aver avuto tantissimi ripensamenti. C'erano periodi in cui volevo proprio mollare tutto quanto. Poi ovviamente, sapete, i genitori a volte hanno un ruolo, cioè nel senso vi dicono magari continuo, è per il tuo bene, è per il tuo bene. Quindi alla fine si finisce con continuare gli studi, anche contro la propria volontà, cosa che non consiglio di fare ragazzi. Perché la vita è vostra e quindi non devono decidere gli altri per voi, nemmeno i genitori. Se non vi sentite di fare una cosa, semplicemente non fatela. Comunque io ho avuto un rapporto super mega conflittuale con la scuola, ma non mi piaceva niente del liceo, negli insegnanti, nel modo di insegnare, nemmeno le compagne, devo dirvi. Alcune molto molto antipatiche, anche cattive. Però se qualcuno mi dovesse chiedere un nome, un cognome di una di queste compagne, beh, io ve lo so dare. Vi dico la verità, di alcuni compagni io non ricordo assolutamente il cognome, per esempio, ma nemmeno il nome. Però se qualcuno, per esempio, mi dice, ah ti ricordi di una certa, mi ritorna alla mente. Anche se io non lo ricordo, tu mi nomini quel nome, io lo ricordo, lo collego. Quindi com'è possibile non ricordarsi, o comunque in tutta la scuola, in tutta l'università, non trovare una persona che si ricordi di te, o che si ricordi di una determinata compagna? È impossibile, anche perché io ricordo quando andavo al liceo, frequentavo il liceo, si conoscevano anche persone che, per esempio, non facevano parte della tua classe. E voglio condividere con voi alcune informazioni, sono proprio pochissime righe, che sono contenute in questo libro di Ike. Ricordati chi sei, dove vivi e da dove provieni. Tra l'altro, volevo dirvi che ho comprato l'ultimo libro di Ike, che è reperibile esclusivamente in lingua inglese. Non so se mai verrà tradotto in italiano, ho aspettato, ho aspettato, ho aspettato, anche perché è uscito ad agosto, no? Quindi ho detto, magari, però poi, visto che su Ike stanno effettuando proprio una censura ai massimi livelli, mi son detta, beh, probabilmente non lo tradurranno nemmeno mai in italiano, no? Perché ovviamente tutte le cose che lui dice, che lui racconta in questo libro, verranno sistematicamente demonizzate. Per cui ho detto, vabbè, una base di inglese ce l'ho, parlo l'inglese tutti i giorni, ma al che vada, se una cosa non la capisco, la chiedo al mio compagno e amen. E l'ho comprato. Ho comprato il libro di Ike, quindi a breve vi farò sapere cosa ne penso, perché comunque lo leggerò in pochissimi giorni, ne sono sicura, come ho fatto, ho sempre fatto. Non è più, non ha più pagine dell'imbroglio della realtà e dell'inganno della percezione, per cui penso di terminarlo, se non in una settimana, visto che comunque in quest'ultimo periodo ho tantissimo impegno e tante cose da fare, magari in due, due settimane e mezzo riuscirò a terminarlo. Vedremo un po'. Comunque volevo giusto leggervi alcune cose riguardo ad Obama, per chiudere un po' il quadro, no? Per farvi capire che c'è tantissimo mistero, se così lo vogliamo chiamare, intorno a questa figura, che così tanto si è battuta nel 2020 per dare il potere in mano a Biden. Ma secondo me Biden sarà fortemente influenzato da Obama nelle sue politiche. E lo vedremo, secondo me, vedremo qualche traccia di Obama nella presidenza Biden, ne sono proprio sicura, anche perché Biden si è battuto tantissimo. Scusate, Obama... che cosa ho detto prima? Non sono sicura di ciò che ho detto. Avrò sicuramente fatto confusione. Volevo dire che nelle politiche di Biden vedremo una traccia di Obama, sicuro. Obama si è battuto tantissimo per sostenere Biden, ma anche per diffamare Trump, perché mentre sosteneva Biden, diffamava anche Trump. Lui e sua moglie, ma per quanto riguarda la moglie non entro nemmeno nel merito, sincera. Ma andiamo a leggere queste cose che vi faranno sicuramente riflettere. Stiamo parlando comunque di un uomo che non ha ancora prodotto il proprio certificato di nascita per provare che è qualificato a far parte comunque dell'ambiente politico. Anche all'epoca della sua presidenza, lui non ha mai mostrato il certificato veritiero per provare che era l'uomo giusto per fare il presidente. Se non si è nati in America, non si può diventare presidente degli Stati Uniti, ragazzi. E lui probabilmente in America non c'è nemmeno nato, ma vuole nascondere questo dettaglio perché altrimenti si andrebbe a creare uno scandalo assoluto. Ma figuratevi se questo scandalo esce con tutta l'elite che ha dietro e con tutti i soldi che ci sono, figuratevi. Ha già speso, o qualcun altro l'ha fatto per lui, qualcosa come 2 milioni di dollari per combattere legalmente chi lo vuole costringere a dimostrare che è un candidato americano per nascita, come bisogna essere per diventare presidente degli Stati Uniti. Messo alle strette, ha mostrato una serie di documenti comunque palesemente fasulli. Ma c'è una ragione per tutto questo. O costui non è nato in America, oppure il suo certificato di nascita rivelerebbe che suo padre non è chi lui afferma che sia. Difficile che nel suo curriculum vite di Obama ci sia anche un solo dato veritiero. Gli studenti che frequentarono il college e l'università nello stesso periodo in cui anche lui, stando alle sue dichiarazioni, li avrebbe frequentati hanno detto di non averlo mai visto, né di averlo mai sentito nominare. Fox News domandò a 400 studenti della Columbia University, presumibilmente frequentata da Obama, se si ricordavano di lui. Nessuno rispose affermativamente. Wayne Allen Ruth studiava scienze politiche alla Columbia, nella stessa classe di Obama, se la storia ufficiale fosse vera. Eppure disse, non conosco una sola persona alla Columbia che lo conoscesse. Nessuno dei miei compagni di corso della Columbia conosceva Obama. Anche la persona che scriveva gli appunti sulla classe, e che conosceva ovviamente tutti, non aveva ancora trovato una sola persona alla Columbia che si ricordasse di Obama. La storia ufficiale della vita di Obama è una marea di menzogne dimostrabili. Non c'è da meravigliarsi che egli si sia rifiutato di produrre i documenti che attestano la sua frequenza alla Columbia University. Dal momento che non esistono. Così come non parlerà mai del periodo trascorso in quell'università, nominando almeno uno dei suoi compagni, uno dei suoi ex compagni di classe. Perché questo? Perché non avendo mai frequentato quell'università, come fa a ricordarsi dei suoi compagni inesistenti? O meglio, dei suoi compagni che non ha mai conosciuto. Ma chi è questo tizio che non ha né un certificato di nascita, né documenti scolastici? Da dove viene? Da un laboratorio forse? Un'altra domanda, che comunque fa molto discutere, è cosa diavolo ci fanno quelle grosse cicatrici che ha sulla testa e sul collo? E a questo quesito io andrò a rispondere nel prossimo video. Per comunque non allungare, visto che so che alcuni apprezzano comunque i video un pochetto più brevi, andremo a soffermarci su quest'altra tematica. I presidenti vengono in un certo senso manipolati dal punto di vista mentale a compiere determinate scelte prima a distanziare un presidente in una determinata posizione. Che cosa accade? Beh, ci sono tantissime teorie, ci sono tantissime cose che si dicono e c'è un film in particolare che svelerebbe questo dettaglio. Ma questo lo andremo a vedere nel prossimo video. Quindi, al momento fatemi sapere comunque sempre se vi va quello che pensate. Chi pensate che sia Obama? Io penso che sia un uomo, un individuo, che all'elite faceva comodo e lo hanno messo lì perché magari dopo la manipolazione che è stata effettuata su questo individuo rispondeva alle loro esigenze e quindi in un modo o nell'altro magari anche in modi illegali hanno deciso di stanziarlo lì al potere di farlo diventare presidente e di non celare la sua vera identità perché ci sono tantissimi documenti che lui ha diffuso palesemente falsi ragazzi sono documenti che sono stati anche analizzati da esperti che poi ovviamente vengono sempre bersagliati dal sistema vengono etichettati come dei ciarlatani ma che ci hanno visto bene. Quindi cosa ne pensate? Poi è anche strano, no? Questo siparietto, il fatto di dire se io ho frequentato la Columbia University in questo, questo e quest'anno e poi magari si va a chiedere agli studenti di quegli anni lì se hanno mai conosciuto uno studente di nome Barack Obama nessuno si ricorda stranamente di lui quindi anche questo mistero. Insomma, che ne pensate voi? Chi pensate che sia Obama? Vi fidate? Non vi fidate? Pensate che possa? O meglio, pensate che manipolerà in un certo senso le politiche di Biden? Fatemi sapere quello che volete. Vi auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo al prossimo video in cui andremo ad analizzare queste cicatrici di Obama anche se per quanto mi riguarda non è che bisogna vederci delle stranezze ovunque ragazzi perché non sono nemmeno molto d'accordo quando si cerca di vedere la stranezza ovunque quindi mettiamo questi presidenti sono comunque rinchiusi come noi in dei corpi quindi ha potuto procurarsi quelle cicatrici ci tengo a precisare in mille modi io non sono una che vuole vedere il marcio e l'ercio ovunque in ogni dettaglio però voglio soffermarmi più che altro su questo film per cercare di chiedere anche a voi se secondo voi può essere possibile che venga effettuata una manipolazione su questi presidenti prima che vengano eletti o prima che vengano stanziati in un determinato scenario come quello politico per esempio fatemi sapere quello che volete ci vediamo alla prossima e buon proseguimento di giornata